Nella magnifica cornice del Forte di Bari, il 25 e il 26 novembre, ci sarà questa manifestazione sul concorso de Venestrem. E' chiaro che questa manifestazione viene fatta da noi perché proprio da noi c'è una viticultura eroica, perché chi conosce la valle conoscerà anche l'orografia della nostra regione, dove la maggior parte dei terreni sono a delle altitudini importanti. Noi abbiamo delle viti a 1200-1300 metri su delle pendenze molto importanti. Da lì i vini estremi? Da lì i vini estremi e soprattutto bisogna tenere conto che per lavorare queste vigne ci vuole proprio coraggio, ci vuole coraggio e passione. Ci vuole coraggio e passione perché fa parte della cultura valdostana. Se si pensa che alla fine del 1800 c'erano circa 1000 ettari di terreno coltivato a vigna, oggi ci troviamo ad avere 400 ettari, anche se proprio la viticoltura in Valle d'Aosta sta emergendo in modo importante. Sta emergendo in modo importante soprattutto con i giovani. Noi abbiamo un 10% di aziende fatte da giovani, da giovani che hanno intrapreso questa attività. Quindi cosa succederà esattamente il 25 e il 26? Si potrà anche degustare? Certo, si potrà degustare. Ci saranno moltissime aziende sia valdostane ma italiane, del Piemonte, della Liguria, della Sardegna, della Lombardia, ma non solo. Anche delle aziende che vengono dall'estero, dalla Germania, addirittura dalla Palestina e dalla Francia. Vincerà chi? Ma vedremo. Venite a degustare i nostri vini e poi capire. Nel senso quali i requisiti? Beh, i requisiti sicuramente non sono io la persona adatta per spiegargli quali sono i requisiti. Senz'altro ci saranno gli esperti che valuteranno tutti i vini presentati per dare il giusto riconoscimento. E' no, ma per voi. Grande, grande. Non vedete un attimo. Grande. Grazie a lei. Grazie a lei.